bentornati al morso il podcast che parla di apple in maniera speriamo critica e un po creativa insieme a me come sempre emilio pavia ciao emilio ciao costantino buongiorno come stai tutto bene grazie devo dire mattinata un po intensa però non mi lamento io mi sto preparando le valigie come ti avevo detto oggi vado a roma un paio di giorni vado a seguire l'internazionale di tennis spero sarà una bella esperienza lo spero anche io sono certo di questo divertitevi quindi grazie senti allora emilio oggi apriamo parlando di un argomento molto sentito da tutti noi dai lavoratori in generale che che gravitano intorno al mondo dell'ittino sto parlando di remote working remote working sì remote working no avrai sicuramente letto che il product manager del settore intelligenza artificiale di apple ha rassegnato le dimissioni e sembrerebbe che il motivo principale di queste dimissioni sia legato appunto ad un malcontento dovuto al fatto che apple come sai ha iniziato a richiamare i propri dipendenti in azienda con un rientro graduale che prevede comunque un ritorno alla normalità con almeno tre giorni la settimana entro fine maggio no sì ho sentito la domanda così posta remote working no remote working sì da me può avere solo una risposta che ovviamente remote working sì perché è quello che faccio io dal 2010 ad oggi mi sono costruito una carriera basata sul remote working anche perché noi viviamo da un punto di vista territoriale in una zona molto povera dal punto di vista tecnologico e quindi per noi il remote working è l'unico modo per continuare a vivere da queste parti no se vogliamo estendere però il ragionamento a realtà più grosse e complesse come può essere apple non invidio né il management di apple che deve prendere delle decisioni da questo punto di vista né i dipendenti di apple che probabilmente saranno costretti a dover rinunciare a questa metodologia di lavoro che comunque è stata forzata nel periodo covid ma che adesso viene visto quasi come un diritto acquisito no tant'è che molte aziende nel nostro settore hanno adottato la politica del lavoro da remoto anche al di fuori dell'emergenza pandemica con apple questo sembra non essere il caso e da un lato capisco il motivo perché ovviamente loro sono un'azienda che ha come principi base la collaborazione fra fra i team quindi sempre al solito questo tema della sinergia tra hardware software e servizi che ritorna anche diciamo il modo che loro hanno di ideare sviluppare i prodotti che è molto basato sul confronto creativo no tra le varie anime dell'azienda tra le varie fazioni e anche c'è un discorso di privacy nel senso come riservatezza nello sviluppo di prodotti di hardware di software a cui apple è molto legata ma sai proprio 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 la privacy in questi in queste settimane ha cominciato a girare un po una voce sembra che la direzione di team cook si stia muovendo in maniera molto diversa dalla vecchia apple anche in questo caso gira un po questa notizia che ha fatto scalpore per cui apple vuole un po desecretare tanti progetti interni per dare appunto modo di collaborare in maniera più ampia tra i vari tra i vari settori quindi io non vedrei proprio la privacy come come uno dei dei motivi principali per il ritorno certamente come come dicevi tu il covid ha dato un po il colpo di grazia no ad una ad un asset ad un flow generale del lavoro che era quello di quattro anni fa immagino che apple abbia come tante altre aziende non sono le uniche che lavorano in una modalità in cui varie sinergie varie tecnologie si si incrociano quindi quella del design rispetto a quello dell'it rispetto a quella dell'hardware ecco però secondo me è necessario tentare di trovare la quadra in cui dipendenti e risultati aziendali abbiano il miglior trade off il miglior compromesso il remote working in generale potrebbe aiutare a livello enorme il divario come dicevi tu di salario e di costo della vita ad esempio che c'è in silicon valley perché non soltanto noi che viviamo in una zona decentrata siamo sfavoriti ma anche chi si trova negli stati uniti comunque ha un grosso gap rispetto a quanto costa una casa in silicon valley o in mountain view ed il resto dell'america è saltata agli occhi della cronaca questa cosa qualche mese fa lì i costi della vita sono davvero esorbitanti quindi il remote working potrebbe aiutare a questo punto no sì sì assolutamente però questo cozza ora ovviamente apple ultimamente ha investito tantissimo nella costruzione del suo quartiere generale no sia da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista di design stesso di come loro intendono il lavoro no quindi tutte queste vetrate tutte questa questa struttura a cerchio unisce no quasi tutta l'azienda raccoglie tutta l'azienda in un unico posto è uno dei motivi anche per cui questo quartiere generale fu costruito c'era steve jobs quando fu progettato e diciamo il cantiere ebbe inizio fu proprio quello di raccogliere tutti i dipendenti di apple che erano sparsi in varie sedi della silicon valley in un unico ambiente in un unico posto dove tutti potessero collaborare potessero discutere potessero fare riunioni potessero portare avanti i progetti dell'azienda quindi proprio da un punto di vista filosofico secondo me il remote working è difficile da accettare per per apple e per il suo management perché è un'azienda fondata su su questo di contro io immagino che nel 2022 tu farai un sacco di fatica mantenere i tuoi dipendenti se non offri delle politiche di flessibilità perché il mondo diciamo del lavoro nel nel mercato it è molto in fermento in questo momento ci sono persone che cambiano azienda come cambiano paia di calzini e al mattino è molto facile trovare un lavoro soprattutto se hai curriculum dove vieni alla fine veramente lì la scelta va a ricadere sul datore di lavoro che ti offre le migliori condizioni e pare che al momento apple non sia tra questi non voglio parlare di salari però da un punto di vista di proposta di lavoro avere la possibilità di andare in azienda quando vuoi o comunque avere la possibilità di gestirti il tempo è qualcosa a cui i dipendenti non vogliono più rinunciare qualcuno afferma in apple intendo afferma che comunque certi tipi di lavoro richiedono una concentrazione ed un focus che difficilmente puoi avere in una situazione di home working e il risultato insomma non è professionale come quello che avresti lavorando in maniera tradizionale in ufficio dove appunto esistono delle sinergie che per quanto le nuove tecnologie aiutano a coadiuvare comunque una chiamata zoom una chiamata facetime non è la stessa cosa che trascorrere otto ore al giorno nine to five appunto all'interno del campus di apple no? sì io credo che dipenda la situazione vada gestita caso per caso ovviamente chi sviluppa o meglio chi progetta microprocessori o ha bisogno di apparecchiature particolari per costruire prototipi o cose del genere non ha nemmeno senso parlare di remote working in quel caso perché hai proprio bisogno di macchinari e strumenti che a casa non puoi avere non puoi avere chiaro per cui dipende se analizziamo soltanto il comparto software nella stragrande maggioranza dei casi non vedo nessuna limitazione a sviluppare software da qualsiasi parte del mondo in cui ti puoi trovare però sai Emilio lì c'è un altro problema quello della parità di diritti ecco prova a mettermi un attimo il cappello di Tim Cook se mi si permette e lì c'è qualcosa che non va a livello di diritti appunto che vengono dati a certi tipi di lavoratori e magari non vengono concessi ad altri in una situazione di questa il comparto software sarebbe chiaramente agevolato da un punto di vista economico, da un punto di vista di facility, da un punto di vista di qualità proprio della vita poter lavorare da remoto quando invece i propri colleghi che lavorano sul reparto design piuttosto che sul reparto elettronica spinta come quella delle CPU ecco è sicuramente un trattare in modo diverso i propri dipendenti certo però ti faccio il contresempio del pilota di aereo che pretende di lavorare in remoto ci sono dei mestieri in cui non puoi semplicemente farlo lì l'unica cosa che può fare Apple è utilizzare la leva della retribuzione per premiare i dipendenti che vanno in azienda rispetto a quelli che stanno a casa poi ripeto io non farei mai una questione bianco o nero perché ci sono persone che vogliono andare in ufficio io credo che anche la vita in ufficio all'interno del campus Apple sia anche una bella vita nel senso che sei a contatto con persone con menti molto brillanti hai attrezzature, hai un ambiente lavorativo molto stimolante molto stimolante quindi anche diciamo un approccio ibrido dove magari vai in ufficio ma puoi stare due o tre giorni a settimana anche da un'altra parte o avere orari più flessibili probabilmente potrebbe essere già una buona via di mezzo io fortunatamente non sono, sfortunatamente magari viene da dire non sono impattato da queste cose però credo che non sia semplice né per i dipendenti né per il management di Apple gestire questa fase aziendale il covid ha fatto un po' anche questo? sì il covid ha fatto da detonatore diciamo il remote working era una tendenza che si cominciava a percepire sempre più aziende offrivano posizioni di lavoro da remoto perché comunque hai dei vantaggi anche aziendali di poter prendere delle persone valide nel loro lavoro a prescindere da dove si trovano quindi ti si allarga la platea di persone che possono venire a lavorare per te al di là del costo del lavoro assolutamente in senso stretto può essere variabile in base alla posizione geografica in cui ti trovi però effettivamente il covid ha costretto cioè ha dato la possibilità a tutti di provare questa nuova modalità di lavoro e adesso le persone a cui è piaciuta non vogliono più tornare indietro senti voltiamo pagina e parliamo di una notizia un po' triste che riguarda iPod come sicuramente saprai è stato eliminato dalla line up di Apple e non è più in produzione non è più in produzione forse non è più in produzione da un bel po' di tempo o meglio sicuramente ci sono scorta di magazzino un po' sparse qua e là diciamo che era un prodotto che ormai non aveva più senso di esistere nella line up di Apple io ho le mie idee sul prodotto iPod post iPhone di cui magari possiamo parlare anche oggi però diciamo che a parte la nostalgia di un prodotto che è stato con noi per molti anni credo che non se ne sentirà la mancanza ma sai Emilio credo che questo sia sicuramente nel disegno più generale di una direzione Tim Cook che vuole un consumo minore di risorse per progetti non più performanti insomma i tagli alle spese in questo senso sono agli occhi di tutti in questi anni che ha portato Tim Cook e se posso esprimere il mio pensiero non sono molto d'accordo con questa scelta secondo me infatti un'azienda come Apple dovrebbe avere dei prodotti che restano come icone nella sua line up ed iPod è certamente uno di questi è un po' come dire togliere l'iMac dalla line up Apple perché magari domani uscirà qualcosa di più performante più utile e più comprato dagli utenti sì allora forse dovrei esprimere meglio il mio pensiero io non dico che non ci debba essere spazio per un iPod nella line up di Apple dico che non c'era spazio per quello che era diventato l'iPod cioè l'iPod era un iPhone vecchio di 5 anni senza la parte telefonica perché questo era rimasto dell'iPod non c'è stata un'evoluzione di concetto di iPod nel momento in cui è stato presentato non l'hanno voluta non l'hanno voluta ma infatti secondo me l'iPod Touch è stato uno dei diciamo dei prodotti più inutili della storia di Apple io ne ho comprati un paio ma perché? perché li utilizzavo come device a basso costo di sviluppo cioè ci sviluppavo software sopra senza dover avere dei device di test che mi costassero un occhio della testa chiaro però secondo me quello che avrebbero dovuto io scrissi un blog post diversi anni fa quando Apple presentò il primo iPad mini dicendo che Apple non aveva bisogno di di far uscire un iPad mini ma piuttosto un iPod più grande con un display più grande che può sembrare la stessa identica cosa però in realtà non lo è secondo me quello che avrebbe dovuto fare Apple era con l'evoluzione ovviamente degli schermi Touch di tutto l'ecosistema iOS trasformare l'iPod in una specie di dispositivo di intrattenimento focalizzato principalmente sull'intrattenimento quindi non che era un clone di iPhone immaginatelo come che ne so una Apple TV portatile ok? quindi con il suo display che doveva essere più grande ovviamente tipo il Nintendo la console Nintendo quindi creare un prodotto che sebbene potesse utilizzare iOS anche in una versione un po' ridisegnata all'interfaccia come può essere quella di Apple TV però un prodotto destinato principalmente all'intrattenimento digitale quindi videogame visualizzazione di video servizi come Apple TV Plus Netflix eccetera eccetera e dotandolo di accessori che ti permettevano magari di portartelo in giro di avere un touchpad con cui poter giocare diciamo in mobilità o degli accessori che ti permettevano di collegarlo per esempio a una TV esterna tramite HDMI o cose di questo tipo secondo me quello poteva essere una via di sbocco per un prodotto l'iPod che nasceva come player musicale ma che ovviamente le esigenze di fruizione di contenuti col passare del tempo sono cambiate sono aumentate oltre alla musica ci sono i video ci sono i giochi e avrebbero potuto venderla a un prezzo molto competitivo andando poi a fare un magari tire di abbonamento specifico per l'iPod che ne so con 10 dollari ti davano arcade Apple Arcade TV Plus e qualcos'altro è musica ovviamente per cui tu avevi un ecosistema interamente centrato sull'intrattenimento creare invece un dispositivo come l'iPod Touch che era un clone dell'iPhone senza il telefono non aveva secondo me tanto senso a maggior ragione che non aveva nemmeno la sim dati per cui veramente ma che cosa doveva servire per scaricarci la musica diciamo in modalità offline ma l'Apple di oggi non è più interessata a quel mercato ormai ti vende il servizio di streaming e quindi tu devi avere la possibilità di ascoltarti la musica streaming e con l'iPod Touch ad oggi non lo puoi fare a meno che non sei connesso con una rete wifi chiaro certo l'aspetto dei servizi mi trovi d'accordo è chiaramente come dicevo una direzione generale che vede dei tagli a risorse che non sono più determinanti per l'Apple di oggi che è molto orientata ai servizi però sai l'iPod ho ascoltato con interesse la tua idea e mi trovi d'accordo certamente sul fatto che l'iPod andava re-ingegnerizzato lo schermo Touch che ci fu con l'iPod Touch appunto non era abbastanza o perlomeno non è abbastanza come oggi le dimensioni mi trovano un po' meno d'accordo perché quelle vanno ad impattare un concetto di entertainment che è un po' diverso secondo me chi è appassionato di musica trovava nell'iPod un compagno di gioco di utilizzo che aveva certi tipi di caratteristiche quindi le dimensioni compatte la possibilità di portarsi dietro tanta musica e magari in una nuova versione che non è mai uscita che non ha mai visto la luce avere la possibilità di aver integrata la musica liquida in alta qualità che c'è oggi con le nuove tecnologie ecco questa secondo me doveva essere la direzione di un nuovo iPod però chiaramente il fattore connettività se vuoi il fattore streaming va a cozzare con il concetto di servizi che dicevi tu che fa parte dell'Apple di oggi in un'intervista il responsabile dell'Apple Music raccontava che secondo loro ci sono nuove modalità con cui fruire della musica di Apple e tra questi non c'è più l'iPod c'è l'iPhone l'iPad o l'HomePod certo no ma è quello che dicevo io cioè se o tu se lo vuoi mantenere come lettore musicale quindi mantenendo una connotazione forte che aveva all'inizio di player musicale lo dedichi a un'altra funzione per esempio che ne so destinata agli audioofili quindi con musica ad altissima qualità quindi gli metti un sacco di storage e dai la possibilità di scaricare musica anche lossless se vuoi dallo store e quindi lo dedichi a una funzione specifica oppure lo devi far evolvere nel tempo se non hai questa visione è inutile mantenere un prodotto di quel tipo nella tua line up anche perché secondo me ne vendevano veramente pochi e la componentistica per costruirla era quasi finita probabilmente io ci vedevo molto come ti ho detto prima in un prodotto più destinato all'entertainment quindi con delle modalità di utilizzo diverse quindi anche con un'interfaccia tipo quella di Apple TV che magari potevi utilizzare in auto in una modalità simile CarPlay diciamo poteva essere un prodotto pensato per usi ben specifici però avere un dispositivo che ti devi portare appresso quando già hai un iPhone non ha non ha molto senso certo tra l'altro il diciamo io utilizzavo l'iPod player musicale no l'iPod touch quindi il mini ho avuto il mini e lo shuffle nella mia nella mia vita li utilizzavo per fare fitness oggi quella esigenza è stata sostituita dall'Apple Watch il telefono appresso qualcuno dice che la ragione di fondo è fare spazio a risorse in termini di menti di di uomini per qualcosa di nuovo che bolle in pentola in Apple ma non lo so che Apple abbia bisogno di risorse in termini di menti faccio fatica con tutti i dipendenti che ha io credo che Apple possa fare quello che vuole con le risorse che ha a disposizione che ci sia un'ottimizzazione di risorse soprattutto quelle più diciamo di alto rango ci ci può stare se Apple avesse voluto avrebbe potuto continuare a fare a sviluppare l'iPod in quanto in quanto prodotto così come se Apple volesse potesse fare lavatrici o macchine o quello che vuole tutti i soldi che c'ha chissà quanto costerebbe una lavatrice Apple eh però sarebbe connessa con l'iPhone va bene Emilio ti lascio andare visto che devi organizzarti per questa bella gita fuori porta ci vediamo la settimana prossima ci risentiamo più che altro la settimana prossima e ti racconterò come è andata la gitarella va bene grazie mille Emilio per la bella puntata come al solito grazie a te ciao ciao buona giornata grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille